Dalla classificazione dei rifiuti e modalità del loro conferimento alle disposizioni sulla raccolta. In attesa dell'avvio del porta a porta nella città capoluogo di regione, le commissioni consigliari competenti sono al lavoro per portare quanto prima al voto dell'assise cittadina il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Nel corso di una riunione congiunta tra prima e sesta commissione è stato analizzato punto per punto il regolamento a cui potranno essere apportate modifiche. Nella proposta all'attenzione dei consiglieri tra l'altro la scelta che riguarda le competenze del comune, gli obblighi dell'utenza ma anche ad esempio la scelta dei cestini per la raccolta rifiuti nel centro storico di potenza. Il regolamento non prevede in questo caso la differenziata perché antieconomica. Una commissione congiunta che serve per valutare gli aspetti formali di questo regolamento che ci è stato trasmesso già da diverso tempo perché stiamo analizzando attentamente e accuratamente articolo per articolo se non vi sono problemi a livello formale. Nel merito la sesta commissione invece sta finendo di approfondire però i lavori sono in corso d'opera e stiamo cercando di sbrigarci, di velocizzare in maniera da poter licenziare quanto prima questo regolamento in modo tale da poterlo votare poi in consiglio comunale e avviare i lavori con estrema rapidità e urgenza. Questo regolamento serve per disciplinare la raccolta dei rifiuti essendo cambiato, cambieranno ovviamente i modi di raccolta, i modi di smaltimento e quindi questo regolamento disciplinerà nuovamente quello che è stato insomma il modo di raccogliere i rifiuti in città.